Nuovi corsi e nuovi progetti. L'Etica del Gusto, associazione che raggruppa una trentina di artigiani della nostra regione nei settori della pasticceria, gelateria, panificazione e cioccolateria, ha inaugurato la nuova stagione. Le basi sono sempre le stesse, attenzione per l'etica del lavoro, le materie prime, il territorio e la formazione continua di giovani e aziende. Abbiamo tutte le scuole del Friuli Venezia Giulia, alberghiere, convenzionate con noi dell'Etica. Essere convenzionati con noi permette ai ragazzi di integrare la loro parte formativa, che non è da poco. E all'interno di questo centro hanno la possibilità di formarsi con degli workshop che vengono qui i ragazzi, lo fanno anche i loro docenti e qua ci sono anche i master e ci sono corsi specifici per ogni realtà della scuola. Vi state dedicando ora a un tema particolare che è quello del ricambio generazionale, particolarmente sentito nel mondo di chi fa impresa? Certo, perché il giorno d'oggi è veramente difficile trovare, non è più come una volta che i figli portano avanti le attività. Oggi si vede purtroppo o collaboratori che prendono mano all'azienda oppure sono i dipendenti. E quindi cerchiamo di affrontare questo tema e cercando di dare un contributo a noi come associazione. Trasmettere poi le passioni, che non è una cosa da poco, non solo le competenze. È importante questa cosa qua, anche col senso di responsabilità che abbiamo. È una cosa veramente non da poco. Grazie. Grazie.